Ecco l'Actiony Fair 2023 è la stessa edizione di un incontro fra l'offerta e la domanda del mondo dell'alta gamma e della sostenibilità. C'è un momento di workshop, sono due giorni intensi di incontri fra B2B, fra gli alberghi, il mondo del trasporto, tutti gli attori più importanti dell'offerta del prodotto turistico di alta gamma e i clienti, le agenzie di viaggio americane, europee, italiane, proprio che vendono, che hanno una clientela di questo ambito, di questo settore. Ci sono una serie di standard che vengono rispettati, ne parliamo anche all'interno del forum che avviene il 10 di novembre, in quale parliamo di tanti aspetti, del detox, del mondo dei disabili e del lusso, del mondo dei dati, del mondo del lusso, i modelli che alcune imprese stanno sviluppando per far convivere la sostenibilità e il lusso, il mondo della certificazione, il mondo degli attori del trasporto e anche della bicicletta, verrà un'azienda di biciclette di altissimo livello che sono un po' il fiore all'occhiello dell'artigianalità italiana. Quindi un mondo sì rivolto al mercato, un incontro e una fiera legata proprio al business, ma anche consapevole del fatto che siamo all'inizio di un processo nel quale però il lusso può finanziare questa rivoluzione e il lusso può veramente, l'alta gamma in generale, può avere veramente un ruolo di laboratorio per sviluppare questi standard e aiutare sempre più le imprese e il territorio ad alzare la propria qualità e mantenere la propria autenticità.